Conferenza stampa a Biceglie degli ecologisti e civici verdi appunto di Biceglie sul tema ecologia della politica. Al centro del dibattito anche le prossime elezioni amministrative nel comune di Biceglie, le priorità programmatiche e gli scenari politici locali. Con Gianni Casella abbiamo iniziato un percorso ormai da quasi due anni partito con un lavoro sulla strategia rifiuti zero. Un lavoro che ci ha portati insieme a presentare una delibera di adesione alla strategia rifiuti zero, presentarla in consiglio comunale e a farla approvare all'unanimità. Quindi un percorso che ci ha portato attraverso una strada che guarda alle problematiche da un punto di vista ecologista. Questo percorso ci ha fatto conoscere, quindi ci ha portati insieme su delle visioni che sono innovative, che sono ecologiste dal punto di vista ecologista. Sono qui per sostenere il lavoro di Maurizio Parisi e di tutti gli ecologisti di Biceglie. Quindi c'è un percorso che i Verdi hanno fatto accettando di lavorare come ecologisti e civici, quindi con una componente fortemente civica e di collaborazione e di rispetto nei confronti dei comitati che quindi non vengono in qualche modo esautorati del loro ruolo, come forse fanno altre forze politiche, ma vengono rispettati e sostenuti politicamente con l'esperienza di chi fa politica. Innanzitutto io ringrazio la partecipazione attiva, così come diceva Maurizio, e aver concertato già due anni fa, attraverso quella strategia rifiuti zero, un incontro che oggi dà la possibilità ai Verdi, l'analista civico ai Verdi, di aderire al nostro progetto politico nel modo giusto. Penso sia importante la loro presenza per svariati motivi. Innanzitutto come garanzia di un'operatività sull'ambiente e sulla città, perché per noi l'ambiente non è soltanto la caratterizzazione dello stesso, ma verrebbe allargato da un punto di vista sociale e anche economico. L'ambiente per noi riguarda anche la sicurezza di un paese, perché vivere in un ambiente sano, in un ambiente pulito, in un ambiente che guarda con molta attenzione alla natura, alla nostra storia, rende una città sicura, rende una città vivibile. E soprattutto attesta la garanzia di un nostro programma che è fatto di cose concrete, che parte dalla strategia rifiuti zero, ripeto, ma che abbraccia a 360 gradi ciò che riguarda la nostra città oppure le città vicine. Io volevo soltanto menzionare un fatto. Noi abbiamo qui vicino una discarica, la discarica di Trani, che come si sa è una bomba ecologica che dovrebbe interessarci, dovrebbe interessarci perché significa essere a pochissimi chilometri. Insomma, guardare l'ambiente come una futura scelta decisa che porterà la nostra città soprattutto ad avere quell'aspetto e quel ritorno socio-economico che tutti quanti aspettano. Grazie. 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 Grazie.